Femminicidio sventato a Pescara nel giorno del primo maggio dai carabinieri coordinati dal Maggiore Claudio Scarponi che hanno arrestato un 58enne per tentato omicidio. L'uomo, ora ristretto al San Donato, lunedì scorso aveva aggredito con un coltello la convivente, anche lei romena mandandola in ospedale dove la donna era stata poi operata d'urgenza. La sera del primo maggio si è sfiorato la tragedia, l'ennesimo femminicidio consumato, poiché un uomo intorno alle 23 si è recato a casa della propria compagna e appena entrato è scoppiata una violenta discussione e dalle parole si è passati immediatamente ai fatti. L'uomo armato di coltello si è avventato sulla donna, lei ha provato a difendersi ed ha riportato una lesione d'arma da taglio sul palmo della mano e successivamente nel tentativo di scappare è stata colpita da due fendenti alla schiena. Fortuna ha voluto che questo fosse un coltello da pane quindi leggermente arrotondato che ha fatto sì che le coltellate fossero poco profonde. La donna è stata relativamente fortunata poiché sicuramente l'aggressione poteva avere con un tipo di arma diversa potrebbe aver avuto sicuramente esiti molto molto più gravi anche se è ricoverata da due giorni ed è stata operata d'urgenza per saturare le ferite. Quando siete arrivati tra l'altro avete trovato questa donna con il coltello ancora conficcato nella schiena. Il secondo colpo ha trattenuto l'arma e la donna è riuscita a scappare via.